Adesso è il momento di presentare invece l'organico del coro Trapanemia che accompagna durante la processione i nostri cantori. Allora, cominciamo dalle chitarre. Abbiamo il nostro carissimo Rosario, Vincenzo Magrini, Antonino Agugliaro che vi ho visto all'inizio con la pitarra elettrica, nelle percussioni abbiamo solo un tamburo, il nostro Francesco Mondiara, e poi, strumento fondamentale, la fisarmonica con il nostro benvenuto Lantillo. Adesso andremo a presentarvi un canto che ha per titolo Misteri doloroso del Rosario, ma è stato poi battezzato col titolo Popolo perché proprio comincia con il richiamo al popolo ad ascoltare questa preghiera cantata. Il testo risale alla fine del Settecento ed è stato trascritto da un certo padre Bibona, che è presente nella raccolta dei canti popolari di Giuseppe P3, ed è stato musicato dal maestro Armando Alestra. Il coro Trapanemia in Misteri di Lurrusario. Il coro Trapanemia in Misteri di Lurrusario. Il coro Trapanemia in Misteri di Lurrusario. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.